Buonasera e ben trovati con la pagina sportiva, la pausa natalizia apre lo spazio al calcio mercato, se ne sono andati Diallo e Dema in Casarezzo, Arduidi potrebbe essere già con Indiani il 27 dicembre, giorno della ripresa. Pausa di Natale, Arezzo il secondo posto, una posizione di tutto rispetto ma forse non quella sperata all'inizio del campionato, la palla passa a Paolo Giovannini che dovrà chiudere alcuni movimenti sia in entrata che in uscita, l'addio di Diallo e Dema sono il primo passaggio alla pari della cessione di Bruni che è passato al grosseto, Diallo non aveva più il clima giusto e la sua cessione, sebbene a titolo temporaneo, era obbligata. Il ragazzo non si è integrato negli schemi di indiani che chiedono al centro avanti uno sviluppo particolare, soprattutto se giochi con gli esterni a piedi invertito. Gucci mette in gioco la sua maggiore esperienza e i frutti già si vedono, Giovannini ha detto che prenderà una punta dalla C con tutta probabilità, intanto conta di poter portare in dota all'Arezzo subito il centrocampista Arduidi, anche lui in C con il Firenzuola. Il giocatore lo conosciamo bene per la rete segnata agli Amaranto lo scorso anno quando giocava con il Follonica Gavorrano, ha buone doti nell'inserimento e vede la porta. Giovannini ha parlato anche di un 2004 esterno destro e non si capisce perché debba essere di questa posizione. Di più lo vedremo dalla ripresa di martedì. Parliamo adesso del Montevarchi che è tornato ieri alla vittoria battendo il Gubbio squadra seconda in classifica, queste le parole di mister Banchini. La vittoria della volontà e del coraggio contro il Gubbio, il Montevarchi ha visto i fantasmi, poi grazie anche ai regali della formazione eugubina, alla grande forza di volontà, la squadra di Banchini è riuscita a sovvertire il campo ottenendo una vittoria importantissima che permette di iniziare il girone di ritorno con tre punti in dote. Sentiamo le parole dell'allenatore al termine del match contro la formazione rosso-blu di Piero Braglia. Sono molto felice per tutto l'ambiente Montevarchi, per i tifosi, per i ragazzi che ho visto ancora riempire lo stadio, la tribuna del Brilliperi, sono contento. I ragazzi hanno interpretato benissimo l'avvio della partita, cosa che magari era successo meno con il Rimini e da lì l'espulsione e da lì alcune giocate che sono state subito, che hanno subito indirizzato la partita. Dopodiché a volte puoi fare gol subito sulla punizione dell'espulsione e magari vivi una partita diversa. Invece la partita era quella, vi avevo chiesto nel pre-gara di a livello emotivo caricarsi, questo per noi doveva essere il ritorno contro il Rimini perché l'ingiustizia di settimana scorsa dovevamo riportarla dentro il campo a livello emotivo. Sono stati bravi, l'hanno interpretata bene, a fine primo tempo ci siamo guardati in faccia, giocare con due giocatori sopra è sicuramente un vantaggio, però l'obiettivo era quello di non farsi prendere la frenesia. Abbiamo provato a cambiare sistema di gioco. Passiamo un bel Natale, rimaniamo sempre con tanto equilibrio, la strada è lunga, dobbiamo pensare positivo come sempre, ma avrei detto le stesse cose anche con altri risultati. Passiamo al calcio al mercato di Lettanti che si è concluso ieri con una società grande protagonista, ovvero nell'eccellenza Il Foiano che ha piazzato 5 colpi, è arrivato Gianmaria Marcocci, portiere classe 2002 in arrivo dal San Sovino con esperienza a Siena Lunga e a Siena. L'ultimo campionato lo ha giocato in promozione a Lucignano. Damiano Manchia, classe 2004, esterno destro, cresciuto nel giovanile dell'Accademia Calcio Roma, vanta anche dei trascorsi con l'Arezzo dove ha fatto parte della squadra campione d'Italia nel torneo Berretti. In questi sei mesi era a Terra Nova Bracciolini. Luca De Santis, classe 2000 esterno destro, in arrivo dal Cannara, Salvatore Nappo, attaccante classe 2004 con esperienze nei settori giovanili di Chiusi, San Fatucchio e Orvietana. Tommaso Minocci, classe 2001, centrocampista nato ad Arezzo dove ha militato nelle giovanili di Siena, Fiorentina e Arezzo e ha stato anche a Siena Lunga. Per lui due stagioni rosso-blu, la seconda in serie di 25 presenze, un gol a seguire il passaggio a Figline. Dunque un Foiano che cambia radicalmente volto per questo girone di ritorno. Chiudiamo con un flash di basket, visita gradita in casa della Amen, scuola basketarezzo. Infatti ieri sera si è presentato in società, in sede al Palasport d'Agata. Santiago Rodriguez ha la guardia argentina in forza al quintetto aritino fino al 2020 e attualmente gioca con il Cus Bari. Il giocatore sudamericano fu protagonista di una bella ma anche sfortunata stagione soprattutto per lui. Infatti Santiago rimase vittima di un grave infortunio nel corso di un derby interno con la Virtusiana. Infortunio che gli introncò la stagione e si fratturò il bacino. Poi arrivò lo stop forzato per il Covid. La società retina dovette fare i salti mortali per farlo tornare nel paese di origine. Ed è per questo che proprio Santiago è andato a ringraziare a riabbracciare il Presidente Castelli che tanto si prodigò nell'occasione. Castelli ha mostrato gradimento, ha conferma che l'esperienza retina è stata positiva nonostante le disavventure avute da questo ragazzo. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi. Naturalmente auguri a tutti di buone feste e di buon Natale.